A Saldo Breda si è giudicata un contratto di circa 250 milioni di euro per la fornitura di 47 treni metropolitani driverless. L'accordo fa seguito alla sottoscrizione della Convenzione e al contratto di finanziamento per la linea 4 della metropolitana di Milano. I treni a guida automatica e di tipo articolato avranno una capacità di trasporto di 600 passeggeri e potranno raggiungere una velocità massima di 80 km l'ora, operando in entrambe le direzioni di marcia. La nuova linea metropolitana collegherà l'aeroporto di Milano-Linate con la stazione ferroviaria di San Cristoforo attraversando da est ad ovest il centro della città con un percorso di 14,5 km e 15 stazioni. La flotta complessiva sarà prodotta presso gli stabilimenti di Finmeccanica Anzaldobreda di Pistoia e Reggio Calabria per la parte relativa alla costruzione di casse e montaggi, mentre a Napoli saranno realizzati componenti di trazione e di controllo del veicolo e i carrelli. Pochi giorni fa Anzaldobreda ha sottoscritto anche un contratto per il full service, il servizio di manutenzione del materiale rotabile con la società GEST che si occupa della linea tramviaria di Firenze. L'oggetto della fornitura riguarda i tram Sirio prodotti da Anzaldobreda e in circolazione dal 2010 sulla linea 1 del capoluogo toscano. L'ordine ha un valore di circa 8,5 milioni di euro e una validità di 5 anni con possibilità di estensione per ulteriori due anni. Anzaldobreda si farà carico di tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva oltre che della fornitura dei prodotti di ricambio. Le attività saranno svolte presso il deposito dei tram situato a Scandicci.